Sono state presentate questo pomeriggio al Pala del Mauro le campagne e abbonamenti di Scandone e Calcio Avellino per entrambe le squadre, targate Sidigas, prezzi accessibili anche grazie alle preannunciate promozioni per gli over 70, ragazzi dai 10 ai 18 anni, i nuclei familiari a partire da tre persone a seconda della composizione e le forze dell'ordine. Nessuno sconto invece per le donne. Questi i dettagli sul fronte. Palla a spicchi. Tribuna VIP 1340, Tribune inferiori 500, Tribune superiori 335, Distinti 220 e Curve 165. Sponda Calcio sarà possibile assicurarsi i titoli d'ingresso stagionali ai seguenti prezzi. Curva Sud a 70 euro, Tribuna Terminio 120, Montevergine Centrale 300, Socio Sostenitore 500. Non disponibili in abbonamento i settori laterali della Tribuna Montevergine, che saranno venduti per singolo evento dopo l'apertura, successiva all'installazione dei posti a sedere al costo di 15 euro. A tal proposito, domani mattina in programma un vertice in comune. Ci saranno degli incontri a brevissimo e poi cerchiamo di capire. Noi siamo un po' spettatori del rapporto tra Comune e Tacone, quindi non possiamo dire niente. Tornando agli abbonamenti, ecco i primi passi della polisportiva con la formula Platinum. Chi si abbona a basket e calcio potrà arrivare fino a uno sconto del 20% sull'importo totale, con la possibile aggiunta al pacchetto delle gare di Basketball Champions League.